L'avvocato Antonio Costa Barbetra il 2007 e il 2011 è stato il difensore civico del comune di Novara, un ruolo importante, un ruolo a metà tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Oggi si parla del piano Musa in mano al codice della strada, questo piano se lo sarà studiato avvocato. Tantissimo, nell'ultima settimana ho portato a termine uno studio un po' sollecitato, cittadini che hanno visto in me forse il ruolo dell'ex difensore civico e quindi proprio con quell'equilibrio che avevo allora ho studiato questa situazione. Sotto un profilo giuridico è estremamente complesso e variegata, come è ovvio immaginare. Da un punto di vista del cosiddetto referendum, va sintetizzato al massimo, va detto che Novara prevede esclusivamente referendum consultivi e non abrogativi. Del resto è anche specificato dall'articolo dello statuto che non si possono abrogare tributi o tariffe. Tuttavia è possibile proporre, non è un gioco di parole, l'abrogazione di atti prodromici a queste tariffe. Per esempio la famosa delibera, la numero 107 del 16 aprile 2014, che ha dato inizio sostanzialmente al piano Musa. Quello che è stato fatto finora, io non ho avuto la documentazione, ma sembra essere stata più una raccolta di firme, una petizione, piuttosto che un vero e proprio referendum che deve scontare delle forme particolari. Per quanto riguarda l'altro problema, quello che è stato sollevato più volte relativamente al discorso di parcheggi liberi da balzelli vicino ai parcheggi a pagamento, va detto che questo ragionamento è pienamente ammissibile, ma lo stesso articolo 7 del codice della strada, dal comma 8, prevede anche delle eccezioni, ossia situazioni in cui vicino ai parcheggi a pagamento ci siano delle zone di rilevanza urbanistica. In questo caso l'eccezione è che i parcheggi liberi non dovrebbero essere necessari. Quindi a questo punto potrebbe essere che qualcuno impugni magari le sanzioni irrogate per mancato pagamento della tariffa del parcheggio, ma semplicemente per tentare di disapplicare il provvedimento amministrativo preso dalla giunta comunale, che al momento risulta pienamente in vigore, non essendo che io sappia, ma è stata proposta impugnazione al TAR. Quindi le due sentenze di Cassazione che vengono citate, quella a sezione unite e quella più recente, sono sicuramente uno strumento dalla parte dei cittadini, ma che deve essere usato con estrema cautela e attenzione, come in tutte le pratiche.